welcome amici ben ritrovati ciao a tutti ciao laura ciao amici ciao laura ben ritrovati in questo consueto appuntamento cari amici cari amici che ci state ascoltando che noi siamo felici di vedervi vi vediamo sì vi vedi a tutti ciao dia ben ritrovati come state ma che piacere tanto tempo che non ci vedevamo tanto 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 mi fa piacere che state così bene vedo bene in forma veramente bravi bravi con la porta proprio abbronzata però si è molto pronto stai attenta con il sole perché fa male quindi se sono ideas giustamente cosa andiamo a fare andiamo andiamo appunto a reazionare dimanche di una canzone che già abbiamo fatto laura però è un digital quindi andiamo a vederla in un'altra versione che a noi penso che vi piace che sei pronta laurea come si chiama be with me appunto lei e andiamo insieme a tutti i diars che sono lì in ascolto e ci stanno vedendo un bacio andiamo a reazionarla insieme dai forse andiamo 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 e andiamo 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 e 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 perché ovviamente ma poi scenicamente fantastica visto con questa ragazza come parla bene come canta bene insomma una canzone ritmata bella da ascoltare e da far passare in tante radio in tante radio perché questa è una canzone bella da sentire anche in radio è un pochettino più estiva sì sì molto estiva ad ascoltare assolutamente noi piacevolmente voglio dire siamo qui appunto per questo per andare a relazionare grande il grande dimanche in tante vesti in tante salse ci riempie la giornata ogni volta che andiamo ad ascoltare lui e le sue canzoni fantastiche quindi nel nostro parco abbiamo reazionato tante 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 veramente tante canzoni di dimanche però è bello ascoltare le versioni diverse pure vero Laura sì 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 in più perché questa versione ci ha dato un pochettino un tocco di più a quello che lui le dà tanto il tocco di Michael quindi si era un pochettino al ballo e il ah 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 queste cose che fa lui wow wow fantastico cantando lui in live effettivamente ogni versione è diversa perché diversa cantata perché non è la stessa perché lui ripeto riesce a cantare delle canzoni e renderle uniche ogni volta che le cantano certo perché la canta in vivo quindi si nota si nota sempre la differenza allora amici di Ars grazie per essere stati qui con noi grazie è un piacere avervi sempre qui con noi vi invito sempre a iscrivervi al canale attivare la campanella e commentare come fate di solito voi che a noi piace tanto il nostro cuore enorme bellissimo segnalateci altre canzoni di Dimash perché noi saremo pronti a rifarle farle tante altre canzoni d'accordo grazie di Ars grazie per essere stati qui un grosso abbraccio e alla prossima ciao 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 ciao